Flavio Briatore ha aperto le porte della sua megacasa e ha fatto notare ai suoi fans un imprevedibile particolare. Ecco di cosa si tratta. Nato nel 1950, Briatore è sicuramente considerato uno degli imprenditori più ricchi e potenti dell'Italia. L'uomo possiede infatti numerosissime proprietà e ha alle spalle una vastità di storie d'amore con le donne più belle del mondo. Tra queste, è impossibile non ricordare Naomi Campbell e, naturalmente, Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto anche il piccolo Nathan Falco. Siete curiosi di sapere cos'hanno recentemente notato i suoi followers, Flavio Briatore in diretta. Sulla sua scrivania, in rete, è spuntato recentemente un video che ritrae Flavio Briatore mentre è alle prese con un video in diretta realizzato per i suoi fans. Il filmato in questione lo riprende infatti dall'esterno, mentre Flavio guarda lo schermo del PC ed è intento a parlare. Tra le tematiche da lui affrontate, ci sono state quelle relative alla sua famiglia. Il suo look è come sempre all'ultimo grido, e Briatore dimostra diverse volte di essere costantemente in forma. Non è stato però tutto. I fans più fidati di Flavio Briatore non hanno perso l'occasione di guardare quello che c'è sulla scrivania del potente imprenditore. Ecco allora che hanno trovato improvvisamente una meravigliosa statuetta che rappresenta proprio il mitico Flavio in miniatura. Il piccolo Briatore è infatti posizionato proprio sulla sua sinistra ed è vestito in total white. Soprattutto, c'è un'incredibile somiglianza tra di lui e il vero Briatore. Il patrimonio di Flavio Briatore. Sapete quanto guadagna il rinomato Flavio Briatore? Attualmente, quel che si sa sul suo patrimonio è che dovrebbe aggirarsi attorno ai 185 milioni di dollari. Nel 2014, Forbes aveva però parlato di una cifra pari a circa 200 milioni. Secondo quanto riferito da «il sole 24 ore», il suo billionaire di Dubai arriverebbe inoltre a generare circa 18,1 milioni. Invece, il Twiga di Monte Carlo avrebbe un fatturato di 11 milioni e il Sumosan Twiga di Londra circa 8 milioni. Ci sarebbero poi il Cipriani di Monte Carlo, il Beef Bar di Dubai e il Twiga di Forte dei Rimarmi.